Nello Utah, l'inizio del nuovo millennio è coinciso con il tramonto dell'era Stockton-Malone. Malgrado l'addio delle due leggende, i Jets sono riusciti a mantenersi competitivi nel corso dei decenni successivi, prima con la squadra guidata da Deron Williams e Carlos Buser, poi con quella capitanata da Donovan Mitchell e Rudy Gobert. Ecco il quintetto ideale degli Utah Jets dal 2000 in avanti. Playmaker, Deron Williams. Terza scelta assoluta del tratto 2005, D. Will prende presto il timone dei Jets ed emerge rapidamente tra le migliori poingard della Lega. Fin dal suo debutto, Williams viene paragonato al compagno di draft Chris Paul. Inizialmente quest'ultimo ottiene più riconoscimenti individuali, ma ha decisamente meno successo di Deron in termini di risultati di squadra. Già al secondo anno, infatti, Williams trascina i Jets alle Western Conference Finals, persa contro i San Antonio Spurs. Nelle tre stagioni successive sono i Los Angeles Lakers a infrangere i sogni di gloria di Utah. Nel frattempo, D. Will è diventato uno dei nuovi volti della Lega. Nel 2008 viene inserito nel secondo quintetto All-NBA. Due anni più tardi debutta finalmente all'All-Star Game, che fino a quel momento gli è stato negato solo dall'eccessiva concorrenza, e viene confermato nell'All-NBA Second Team. L'ennesima eliminazione subita per mano di Giallo-Viola, la partenza di Carlos Buser e i continui screzzi con coach Jerry Sloan aumentano esponenzialmente la tensione, finché a febbraio 2011 si arriva al punto di rottura. Due settimane dopo le dimissioni di Sloan, Williams viene ceduto ai New Jersey Nets e Utah si prepara a ricostruire. Guardia, Donovan Mitchell Nel 2017, dopo due stagioni trascorse Louisville, Mitchell viene selezionato a metà primo giro dai Denver Nuggets, i quali decidono di spedirlo subito ai Jets in cambio di Tyler Lydon e Trey Lyles. Mentre in Colorado accolgono una meteora e un mestierante, nello Utah arriva una nuova stella. La partenza di Gordon Hayward fa supporre che i Jets siano condannati a lungo ribitti, ma il nuovo arrivato si dimostra subito in grado non solo di colmare il vuoto, ma di poter guidare la squadra a livelli altissimi. Al culmine di un'eccellente stagione da rookie, Spida è il migliore in campo nella serie vinta al primo turno contro i Thunder, poi è tra gli ultimi ad arrendersi ai favoritissimi Houston Rockets dell'NVP James Harden. Nel 2019, Mitchell sfiora 24 punti di media e riporta i Jets ai playoff, dove ancora una volta soccombano i Rockets. Come accadeva nel decennio precedente ad Aaron Williams, però, la guerrita concorrenza gli nega un posto all'All-Star Game. La chiamata arriva l'anno seguente, e arriverà in tutte le stagioni a venire. Donovan inaugura i playoff nella bolla di Orlando con una prova da 57 punti, ovvero la terza migliore performance nella storia della post-season NBA. Utah, in vantaggio per 3-1, subisce però la rimonta dei Denver Nuggets, che vincono una serie segnata indelebilmente dallo stellare duello fra Mitchell e Jamal Murray. Nel 2021, Mitchell e Rudy Gobert guidano i Jets alla migliore stagione di quel ciclo. Utah ottiene il miglior record della Lega e travolge Memphis al primo turno, ma a un passo della finalità di Conference viene sconfitta il rimonto dai Clippers, anche a causa di un'infortunio alla caviglia che debilita Mitchell. Durante la stagione successiva, Nero Utah si avverte sempre più la sensazione che più lontano di così non si possa arrivare. In seguito all'eliminazione subita al primo round contro Dallas, a Salt Lake City parte la ricostruzione. Dopo coach Quinn Snyder e Rudy Gobert, anche Mitchell lascia l'aiuta. A settembre viene infatti ceduto il Cleveland Cavaliers. Alla piccola, Andrei Kirilenko. Lalla russa viene selezionata dai Jets nel 1999, ma resta per due stagioni in patria prima di trasferirsi a Salt Lake City. AK-47 diventa subito un pilastro della squadra. Nei primi due anni viene utilizzato come sesto uomo da coach Jerry Sloan, che dopo gli addi di John Stockton e Karl Malone gli affida un ruolo di primo piano. Kirilenko emerge come uno dei migliori two-way player della Lega. Nelle tre stagioni successive fa presenza fissa nei quintetti all-defensive. Nel 2004 viene convocato all'All-Star Game e l'anno dopo guida addirittura la NBA per stoppate. Gli arrivi di Deron Williams e Carlos Buser relegano Andrei a un ruolo più marginale, anche se il suo contributo nella metà campo difensiva è fondamentale per il successo di quei Jets. Durante il lockout torna a giocare in Russia e con la maglia da Seska viene eletto MVP dell'Eurolega, dopodiché, nell'estate del 2012, firma da free agent con il Minnesota Timberwolves. Alla grande, Carlos Buser. Nelle due stagioni passate a Cleveland, il lungo da Duke ha mostrato un grande potenziale, tanto che i Cavs intendono concedergli una ricca estensione contrattuale nell'estate del 2004. Tra il giocatore e la franchigia dell'Ohio si inseriscono però i Jets, che raddoppiano l'offerta e convincano Buser a trasferirsi a Salt Lake City. I primi anni con la nuova maglia sono condizionati da una serie di infortuni, ma nel 2006-2007 Carlos picca definitivamente il volo. Gli oltre 20 punti e 11 rimbalzi di media gli valgono la prima convocazione all'All-Star Game ed hanno una notevole spinta ai Jets nella corsa alle Western Conference Finals. Nella stagione seguente arrivano un'altra chiamata tra le stelle e l'inclusione nel terzo quintetto all-NBA. Utah si ferma al secondo turno playoff contro l'ostacolo Lakers e da quel momento inizia una fase calante, anche a causa dei problemi fisici che tormentano nuovamente Buser. Nell'estate del 2010, diventato free agent, Carlos saluta i Jets e viene spedito tramite sign-and-trade ai Chicago Bulls. Centro, Rudy Gobert Come Donovan Mitchell qualche anno più tardi, anche il centro francese viene regalato ai Jets dai Denver Nuggets, che nel 2013 sono smagnosi di acquisire i servigi della guardia Eric Green. Inizialmente, Gobert è chiuso nel ruolo di centro da Enes Kanter, ma nel 2014-15 la partenza del Turco lo promuove stabilmente in quintetto. Rudy diventa un pilastro della squadra di Quinn Snyder ed emerge rapidamente tra i migliori lunghi difensivi del mondo. Nel 2017 guida la Lega per stoppate, viene inserito nel primo quintetto all-defensive e nel secondo all-NBA e aiuta i Jets a raggiungere i playoff. Nelle quattro stagioni successive guadagna altre tre inclusioni nei quintetti all-NBA e viene eletto tre volte Defensive Player of the Year. Con il tre volte all-star a terrorizzare gli attaccanti avversari, i Jets diventano una squadra di vertici nella Western Conference, facendo presenza fissa ai playoff dal 2017 al 2022. L'eliminazione contro i Mavs segna il cappoline per quel gruppo. A luglio, Gobert viene ceduto a un prezzo considerevole in termini di giocatori e scelte future a Minnesota Tibberwolves. Sesto uomo, Gordon Hayward. Dopo aver perso in Extremis la finale a NCAA con Battle University, Hayward viene scelto dai Jets con la nona chiamata a The Draft 2010. Arriva in una squadra dilagnata dalle tensioni tra la stella Deron Williams e l'allenatore Jarry Sloan e nel suo anno da matricola gioca principalmente come riserva di Andrei Kirilenko. Il ritorno in patria del russo gli apre le porte del quintetto, ma per la sua definitiva esplosione bisogna attendere altre partenze, quelle di Al Jefferson e Paul Millsap nell'estate del 2013. Gordon diventa uno dei leader tecnici di un gruppo ricostruzione e i maggiori spazi gli permettono di crescere anno dopo anno. Nel 2017, Hayward sfiora 22 punti di media, viene convocato al suo primo e unico All-Star Game e insieme a Rudy Gobert riporta i Jets ai playoff dopo 5 anni. La sua scesa si corona nel momento più delicato. Dopo la prevedibile sconfitta contro Golden State, Hayward diventa free agent e sceglie di raggiungere il suo vecchio allenatore, Brad Stevens, ai Boston Celtics. Menzioni d'onore per il centro turco Memento Kuhn, nominato All-Star nel 2007, per Laurie Markkinen, Most Improved Player of the Year nel 2023, per Jordan Clarkson, sesto uomo dell'anno nel 2021, e ovviamente per Karma Lone, che nel nuovo millennio, seppure fosse ormai il suo viale del tramonto, ha disputato un paio di stagioni ad altissimo livello. Allenatore, Jerry Sloan. Stella dei Bulls da giocatore, Sloan è arrivato sulla panchina dei Jazz come assistente nel lontano 1985, ed è entrato nella leggenda nel decennio successivo, quando ha guidato Utah a due finali NBA. Nel nuovo millennio, però, riesce a mantenere la squadra ad alti livelli, nonostante le partenze dei due leader storici, John Stockton e Karl Malone. Il gruppo capitanato da Deron Williams e Carlos Buser raggiunge le finali di conference nel 2007, e si ferma al secondo turno in due delle tre stagioni successive. A febbraio 2011, i continui scontri con Williams e una crescente frustrazione, portano un clamoroso addio, che chiude di fatto un'epoca a Salt Lake City. L'altro candidato alla nostra panchina virtuale era Quinn Snyder. Con lui al timone, Utah ha fatto presenza fissa ai play-off tra il 2016 e il 2023, chiudendo la regola season 2020-21 con il miglior record NBA. Questo era il nostro quintetto del millennio per quanto riguarda gli Utah Jazz. Nei commenti fateci sapere cosa avreste cambiato o le eventuali menzioni d'onore. Con un invito a lasciare un like al video e iscrivervi al canale, vi do appuntamento alla prossima puntata. e iscrivervi al canale,